Quel giorno che un chi avrà guardato le mie cose e che avrà il potere di dire questo ha un buon valore per il luogo e per la gente, tanto già sarà ito perso e è un dolore a me latente, ma che sappia la mia gente che qui dove sono io non si sente ormai più niente e ho già dato tutto a Dio. Quando avevo i sensi vivi e rispettavo cose e gente, la speranza su qualcuno che capisse un po' i valori e la fatia che dedicavo a quel passato e in quel presente, ma tenuto ben digiuno, cupo in casa e allegro fuori, a piatto voto e in pancia niente. Il buon ridere l'ho dato a tutti quelli che ho incontrato, anzi dico ancora qui che il sorriso va insegnato, in mezzo a campi e in ogni dì, in ogni scuola e in ogni prato, finché i sensi sono vivi, perché un giorno poi si more, sotto terra cambia tutto, perdi l'uomo, il corpo e il detto. Mangia quando senti fame, quando poi non la senti più, resta a vivi quel tuo pane, perché a te non serve più. E se chi te l'ha rubato in vita ne è restato il vizio, or che non te lo ruba più, è un cretino dello strazio. Perché mai si è reso conto che quel vivere del giorno è legato a tutti e a tutto, cose e gente che s'antorno. Mentre è al tempo che cammina il padron della fortuna, la randella in qua e l'ha e chi ci inciampa è un fortunato. Ma il cretino non lo sa che ha trovato la fortuna camminando cianciampato, crede sia felicità.